Il treguardo volante è di quelli davvero importanti, due biglietti per assistere alla partita del 19 gennaio tra Juventus e Sampdoria allo Staglio di Torino. Sta entrando nel vivo l'edizione 2013-2014 dell'Oscar del Talento, il referendum organizzato dal quotidiano La Nazione in collaborazione con Noi TV. I tagliandi votati nei primi tre mesi di Oscar sono già migliaia, ma per rendere ancora più appassionante questa simpatica sfida tra giocatori e allenatori dei settori giovanili e scuole calcio è stato deciso di porre al 31 dicembre un traguardo intermedio. Il primo classificato di ogni categoria riceverà due biglietti per la partita dello Juventus Stadium, compreso il viaggio in Pullman, mentre al secondo e terzo classificato andrà la maglia originale della propria squadra del cuore. Siamo convinti e consapevoli che poter creare delle opportunità sempre nel mondo del calcio a questi ragazzi, magari entrando in contatto con i club di serie A, giocatori oppure partite o stadi, sia un'opportunità che si porteranno dietro un po' per tutta la vita. L'obiettivo è quello di divertirci, farli divertire e fargli fare un'esperienza diversa dal normale. I tagliandi dell'Oscar del talento sono pubblicati ogni giorno sul quotidiano La Nazione, mentre le classifiche vengono annunciate ogni giovedì e venerdì sul giornale e su Noi TV.